Clotzli Clotzli è una ditta svizzera che fa coltelli di alta qualità questo modello qui è il Sarra completamente in titanio le sole viti sono in acciaio è un gentleman apribe ad una mano disegnato da Michael Walker la lama è quasi a specchio ATS 34 c'è una leggera designatura posteriore per il pollice il sistema di sicurezza è liner lock il liner è anch'esso in titanio di colore blu coltello si presenta molto bene ben fatto ottime lavorazioni ok 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 ok